Musica Prosecco Doc Millesimato Extra Dry Cantine I Padroncini Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo Mercoledì 8 settembre è ancora tempo buono sul nostro territorio L'alta pressione si mantiene dunque stabile Vediamo insieme il dettaglio Sul Veneto bel tempo asciutto e stabile Con tanto sole su tutti i settori Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota E il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso La cosiddetta estate settembrina ci regala temperature piacevoli Minime comprese tra 12 e 17 gradi Valori massimi oscillanti invece tra i 25 e i 28 gradi Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia Dove di fatto avremo la stessa situazione con tanto sole Cielo sereno o al massimo velato E anche qui non sono attese piogge Vediamo le temperature minime tra 13 e 17 gradi Massime sui 27 e 28 gradi Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige Anche qui sarà una bellissima giornata Caratterizzata dalla presenza del sole Qualche nube sparsa ma senza ulteriori conseguenze Temperature minime intorno ai 14-15 gradi Massime sui 28-29 gradi Dal Meteo è tutto Vi auguro come sempre un buon proseguimento In compagnia di Antenna 3 Prosecco Doc Millesimato Extra Dry Cantine i padroncini